Restiamo a Reggio, un filo culturale che unisce la città dello Stretto e Bergamo. Sono i due Atenei pilota del progetto Erasmus Italia, voluto dal Ministero dell'Università. Si parte in autunno, previste anche delle borse di studio. Vogliamo spingere gli studenti a rimanere in Calabria con la possibilità di conoscere anche altre realtà, dice il Rettore Zimbalatti. L'idea è nata casualmente un anno fa durante una cena, ora il progetto è realtà con un protocollo d'intesa e il sostegno del Ministero dell'Università e della Ricerca. È il percorso di Erasmus Italia con Bergamo e Reggio Calabria che fanno da prepista con l'obiettivo di coinvolgere studenti da tutta Italia. L'Erasmus europeo da anni riscuote successo. Perché non mutuarlo in un Erasmus Italia dove lo studente si può regare a conoscere non solo un'università italiana, ma anche il territorio circostante e la realtà produttiva e ambientale dello stesso. Si parte già in autunno con le lauree magistrali di Ingegneria e Scienze della Formazione Primaria. 12 crediti per ora, circa 3 esami, con possibili stagi e tirocini per un interscambio reale. Ovviamente il ponte sarà un'attrazione particolare per gli studenti di Ingegneria di Bergamo, perché trascorrendo il loro Erasmus Italia, qui in questa terra, potranno conoscere la realtà operativa nella quale si realizzerà questa importante opera. Per cui noi ci auguriamo di essere i precursori di un'iniziativa che coinvolga tutta l'Italia. L'Erasmus Made in Italy ha una finalità duplice, far rimanere gli studenti in Calabria e attirare gli universitari dal nord, sfatando così i tanti pregiudizi sulla formazione del meridione. La risposta degli studenti a Reggio è stata ottima, con i ragazzi che sperano che il progetto possa allargarsi presto ad altri dipartimenti. È un progetto importantissimo che darà la possibilità a noi studenti di poterci confrontare con delle nuove realtà presenti all'interno del territorio nazionale e avere così la possibilità di interscambi culturali. Si tratta di un'opportunità ulteriore per gli studenti di Reggio Calabria e di Bergamo, non solo quindi di conoscere l'Europa, ma anche di conoscere le realtà eccellenti di prossimità, reciprocamente ovviamente. Dallo stretto alla Lombardia, andate e ritorno per rendere l'offerta formativa sempre più flessibile. Certamente si vuole dare un'opportunità di restare, perché per conoscere le realtà manifatturiere della Lombardia non avranno bisogno di trasferirsi lì. Erasmus Italia si allargerà poi ad altre facoltà, ma tanti atenei sono pronti a entrare nel progetto. E la risposta degli studenti qui è già molto positiva. C'è molta empatia e felicità di partecipare a questo progetto, quindi sicuramente sarà un progetto a cui aderiranno moltissimi studenti.